Bentornati raga, qui GonzoGestGaming Oggi vorrei dare un'occhiata alle modifiche per le armi di Last Day on Earth Survival Partiamo subito dalle armi da fuoco e lo facciamo dalla Glock, che è la mia arma preferita Come vedete dalle modifiche qui sullo schermo ci sono alcune caratteristiche che vengono aumentate che sono un po' uguali per quasi tutte le modifiche Sto parlando dei danni, dei danni critici, della velocità, delle probabilità critiche Questi sono secondo me i più che dovresti cercare sulle modifiche che stai provando a fermare alla centrale di polizia Magari tramite le ondate, utilizzando gli esplosivi E se ci avete fatto caso, tra queste statistiche secondo me la meno importante è quella di distanza Certo è vero, gli zombie ci metteranno un poco più di tempo a raggiungerci potremmo appunto allontanarci di più e diminuire le probabilità con cui ci beccano Però a differenza delle altre secondo me non è poi così determinante Ovviamente se ancora non hai tutte queste modifiche pronte da assemblare Qualsiasi altra modifica comune o meno che aumenta queste statistiche e attenzione sottolineo aumenta e non diminuisce Se non è troppo costosa da fare secondo me ti ci puoi buttare tranquillamente Tieni bene a mente questo passaggio perché varrà per tutte le armi Ma passiamo al fucile a pompa Questa è la mia seconda arma preferita perché come la Glock non sbaglia mai un colpo e quindi la statistica di stabilità non ci interesserà assolutissimamente Il discorso è praticamente uguale a quello della Glock però vorrei focalizzarmi su una skill in particolare o meglio su una statistica e cioè sulla velocità Molto banalmente infatti il fucile a pompa è l'arma per un'autonomasia più lenta del gioco Seconda forse solo all'arpione A differenza di quest'ultimo però appunto possiamo assemblarle le modifiche Raga non vorrei esagerare però praticamente inizierà a sparare quasi come una pistola e il nostro DPS volerà alle stelle e durante le boss fight ci aiuterà di brutto Ora vorrei passare ai fucili automatici e in particolare Uzi M16 AK47 Escar L'M16 secondo me sarà il fucile automatico che dall'inizio utilizzerai per prima che ci tornerà utile ad esempio contro le torrette al bunker alpha qualora abbiamo delle quest dei razziatori attive Durante le ondate o in qualche pezzetto del laboratorio e del bunker bravo anche se per quest'ultimo ti consiglio di utilizzare una AK47 perché andrai sempre a botta sicura Come puoi vedere ti propongo tutte modifiche che non toccano la stabilità ma che anzi la aumentano Questo perché l'M16 insieme a tutti gli altri fucili dopo un po' inizierà a mancare il bersaglio soprattutto se le scariche di colpi che facciamo sono molto lunghe Infatti se passiamo all'Uzi puoi notare come succede più o meno la stessa cosa Qualsiasi mod che aumenta la stabilità va bene A me piace tantissimo la canna lunga perché è anche una modifica comune e non dovresti avere problemi a trovarla abbastanza spesso La statistica che invece meno ci interessa qui è la robustezza Anche qui la stessa cosa vale per tutte le altre armi In questo caso l'impugnatura economica non farà altro che togliere solo un paio di colpi dalla vita di questa pistola automatica L'AK47 è il fucile più forte del gioco secondo solo allo SCAR Tuttavia se giocate già da un po' avete notato come Gli AK47 sono molto meno rari del suo fratello più potente Ormai dovreste capire come funziona Stiamo cercando mod a stabilità In modo che il nostro fucile smetterà di mancare il bersaglio Il tuo obiettivo dovrebbe essere il freno di bocca modificato Questa mod è il perfetto esempio del discorso che abbiamo fatto fino ad ora Otterremo più danni, più stabilità, tuttavia meno robustezza e più rumore Cosa che non ci interessa perché non utilizzeremo questo fucile durante i ride E se ci spostiamo allo SCAR fondamentalmente succede la stessa cosa Stiamo cercando probabilità critiche, stiamo cercando stabilità, stiamo cercando danni e quant'altro Vorrei ricordarti prima di finire però che questi sono solo degli esempi Di alcune delle build che puoi fare grazie alle tue modifiche per armi da fuoco E in particolare aumentano la stabilità perché sono ancora meglio pensate Per essere utilizzati per il bunker bravo Qui avremo bisogno di fare il massimo dei danni nel minore tempo possibile Per cui la stabilità è massimizzata Di conseguenza se tu vuoi impiegare anche le armi in altre aree in cui non devi andare di fretta Dove puoi aspettare che magari il tuo fucile automatico si raffreddi per ricominciare a sparare Allora ti ricordo che puoi sperimentare al meglio Sempre tenendo presente le cose che abbiamo detto qui Ad esempio potresti voler moddare il tuo M16 Dandogli il massimo delle probabilità critiche E dei danni critici a discapito ad esempio della precisione Mi raccomando lascia un commento, fammi sapere se la guida è stata utile Fammi sapere quali sono le tue armi preferite E con quali set di modifiche le utilizzi Iscriviti, attiva le notifiche così non ti perderai neanche un video a tema Last Day Unite E no Qui con Zoges Gaming Buona caccia Buona caccia Buona caccia Buona caccia